Via Romani in festa si prepara a festeggiare l'anniversario, l'evento dell'intero quartiere che ogni anno rinnova l'appuntamento con lo shopping ed il divertimento grazie a commercianti e residenti dell'importante arteria d'ingresso alla città compie infatti 10 anni. È ormai un appuntamento atteso, consolidato, che funziona, che vede la partecipazione di tanti operatori commerciali della strada, sono una cinquantina le aziende che partecipano alla festa e dalle 18 alle 24 ci saranno tutta una serie di attività, di occasioni, di shopping per mangiare, per divertirsi, per ascoltare la musica, vedere scuole di ballo e tante altre cose per grandi e per piccini e quindi in Via Romana vi aspettiamo sabato dalle 18 alle 24. Sono momenti di riconoscimento, le città hanno questi momenti importanti tutte, noi siamo in tante città presenti e quindi quando una collettività si riconosce noi facciamo parte di questa collettività perché siamo presenti in tante famiglie, siamo presenti in tantissime aziende, in tante aziende anche commercianti della festa che andremo a vedere, a fare insomma e quindi per noi era assolutamente normale collaborare con questo evento come abbiamo fatto negli anni passati come credo faremo anche in futuro. La Camera di Commercio è accanto a queste iniziative per sostenere un comparto che è quello del dettaglio che purtroppo in questi ultimi anni ha sofferto moltissimo la crisi. Ovviamente non vogliamo essere vicini soltanto al centro storico, stiamo guardando anche verso le periferie della nostra città perché siamo perfettamente consapevoli e cosci che ci sono moltissimi negozianti, moltissimi commercianti che in questo momento stanno andando avanti con grande passione e con grande coraggio ma dobbiamo dircelo anche con grandissima difficoltà e per cui noi non possiamo esimerci dal non stare vicino a tutte queste persone.